I giudici hanno rigettato tutti i ricorsi. Confermati tre secoli di carcere per i 36 imputati coinvolti nell'operazione Adro posto dell'ottobre 2012 in seguita ad un'estorsione imposta alla Magnolia Production, l'agenzia di produzione di Riccardo Scamarcio, che stava girando a Palermo il segreto dell'acqua. Proprio la casa di produzione ha denunciato le estorsioni. Lunga la scia dei reati contestati, tipici del repertorio di Cosa Nostra, associazione mafiosa, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia di beni, possesso ed uso illegale di armi da fuoco. Pena più alta per Fabio Chiovaro, 14 anni e 6 mesi, reggente del Mandamento della Noce, arrestato nel 2010 e tornato in libertà l'anno successivo. Durante la sua assenza, Salvatore Sedita, del gruppo degli Stiddari, aveva provato a prendere il suo posto. Per lui una condanna a 12 anni. La malpa del potere degli investigatori piazzava Gaetano Maranzano alla guida della famiglia di Cruillas, coadiuvato da Domenico Spica. Ad Altarello, invece, le redine erano in mano a Vincenzo Tumminia. Gli agenti della squadra mobile eseguirono 41 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nel 2014, tre arrestati, Luca Crini, Giorgio Perrone e Cosimo Grasso, furono assolti e 38 persone furono condannate. Nel 2016, la Corte d'Appello ha poi assolto Giovanni Sedita e Dario Giunta. Grazie a tutti.